Buonasera a tutti. Due parole per introdurre e in un certo senso riassumere questo incontro del G20 di oggi pomeriggio. Complessivamente è stato un incontro molto soddisfacente e fruttuoso. Per andare rapidamente sui principali risultati. Primo, c'è una consapevolezza diffusa che l'emergenza umanitaria che si sta sviluppando in Afghanistan è gravissima. Varie persone, i rappresentanti di istituzioni internazionali delle Nazioni Unite hanno parlato di catastrofe umanitaria e hanno anche notato come con l'avvicinarsi dell'inverno la situazione stia precipitando. Quel che ho cercato io di fare è di mettere questo in massima enfasi come l'argomento su cui si poteva trovare massimo accordo. E di fatto c'è stato. C'è gran disponibilità ad agire. C'è stata sostanzialmente una convergenza di vedute sulla necessità di affrontare questa emergenza umanitaria. E anche complessivamente da parte di quasi tutti, si è parlato di necessità di riuscire ad arrivare a un atteggiamento, a una posizione unificata nei confronti di questo obiettivo. Di fatto poi questo si è tradotto in un mandato alle Nazioni Unite, un mandato di tipo generale per il coordinamento della risposta. E naturalmente mandato per le Nazioni Unite ad agire anche direttamente. Quindi i vari attori che sono i vari Paesi, la stessa Unione Europea su cui dirò tra un momento una cosa, e le istituzioni finanziarie internazionali, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale e le altre agenzie delle Nazioni Unite lavoreranno in un certo senso sotto questo grande ombrello. Dicevo qualcosa sull'Europa, perché effettivamente la Presidente della Commissione Europea, la von der Leyen, ha annunciato uno stanziamento di un miliardo di dollari per questo obiettivo. E questo è stato uno dei vari pledges, cioè uno dei vari impegni a finanziare la risposta umanitaria che c'è stata nel corso dell'incontro. Anche il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento a, se ricordo bene, circa 300 milioni di dollari lo stanziamento per rispondere a questo punto, a questa esigenza. Ma poi si sono, nel corso della conversazione, evidenziate anche altre questioni. Per esempio occorre impedire il collasso economico del Paese. E questo significa tante cose. Significa immediatamente impedire che il sistema dei pagamenti del Paese crolli, per cui non è più possibile effettuare pagamenti. Allora diventa anche molto difficile provvedere con l'assistenza umanitaria. Significa cercare di salvare quel poco di sistema bancario che è rimasto. Perché di nuovo, se le banche crollano completamente, non c'è più. È difficile di nuovo continuare a fare l'assistenza umanitaria. Quello che poi abbiamo evidenziato noi, non è stato trattato molto durante la conversazione, ma è stato richiamato nel corso del sommario, del riassunto alla fine, è la necessità di continuare con la lotta al Covid-19. Non è una priorità immediata, ma di nuovo, se non si fa nulla, questo aggraverà la situazione. Poi si è passati a questioni urgenti, come organizzare i programmi di sollievo, di aiuto per i migranti. E poi invece dal punto di vista, se ci spostiamo dall'aspetto umanitario all'aspetto dei diritti umani, è stato direi che è toccato da tutti il problema dei diritti delle donne, della necessità di garantire loro un'istruzione, di non tornare indietro di vent'anni. Questa è stata un'osservazione che mi pare sia stata fatta da tutti i partecipanti al G20. Come anche Consenso ha trovato la necessità che l'Afghanistan non torni ad essere una specie di rifugio per il terrorismo internazionale. E anche su questo c'è stato un grande impegno da parte di tutti i leader e di fatto poi tra molti paesi questo significa anche coordinare la propria azione contro il terrorismo. Poi un'altra questione, questa più operativa, è stata quella che riguarda l'aeroporto di Kabul. Di nuovo perché se l'aeroporto di Kabul non rimane aperto è molto difficile coordinare e organizzare l'assistenza internazionale. Si è parlato anche della necessità di coinvolgere i paesi limitrofi per evitare, proprio per cercare di dare un pochino di ordine a questo... Pensate che più di 600.000 persone sono state displaced, altri milioni di migranti non si trovano più. Insomma si cerca di dare un po' di ordine, di visibilità a questi movimenti migratori che attualmente non hanno nessun coordinamento. Abbiamo fatto girare tra l'altro un riassunto della riunione del Presidente dove ci sono sia i principi, sia gli obiettivi, sia le linee di azione ma in sostanza è questo che ho detto io. Direi che mi fermo qui. In chiusura ho invitato tutti a cercare di lavorare il più possibile insieme soprattutto sulla risposta alla crisi umanitaria perché questa perlomeno ci permette di superare quelle che sono le inevitabili differenze di veduta, di politica estera, di impegni geopolitici. Ecco su questo non ci sono diversità. Ecco ora mi fermo e sono a vostra disposizione con le domande. Grazie Presidente. Si sono prenotate una decina di domande tra i rappresentati della stampa italiana internazionale. Iniziamo con Marco Galluzzo del Corriere della Sera. Buonasera Presidente. Volevo chiederle se l'assenza durante il vertice sia di Putin che Xi Jinping sia dovuta a dei motivi particolari che vi hanno comunicato, ad attriti geopolitici vista che rappresenta Biden e se qualcosa di effettivo e di efficace si può fare sull'Afghanistan senza il pieno coinvolgimento di questi due paesi. Grazie. No, che sappia io, non era dovuta a motivi specifici o è stata comunicata in anticipo che sarebbero stati rappresentati uno dal Ministro degli Esteri e un altro dal, non mi ricordo, da un altro Ministro, insomma, del Governo, del Consiglio di Stato. Quindi no, il coinvolgimento c'è stato, c'è stato moltissimo, prima della riunione. Tenete presente poi che questa riunione del G20 viene dopo un'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dopo il miti ministeriale dei Ministri degli Esteri. Quindi il coinvolgimento è stato continuo durante tutto questo periodo e continuerà per la preparazione del G20 Sanità, del G20 Clima di fine mese. Quindi no, su quello non credo di poter dire che ci sono stati motivi particolari di politica estera. In generale questo meeting è, almeno io lo considero un successo, perché questa è, credo che sia, la prima occasione in cui i leader hanno dato una risposta multilaterale alla crisi afghana. ed è veramente uno dei primi casi, prime affermazioni di multilateralismo che c'è stata quest'anno. Quindi se uno vuole avere una prospettiva un pochino più di lungo periodo nel giudicare questo evento potrebbe dire che, insomma, tutto sommato il multilateralismo sta ritornando con fatica, ma sta ritornando come schema di lavoro dei paesi più importanti del mondo. Grazie. John Follain per Bloomberg. Prime Minister, question in English. Several G20 members are talking to the Taliban, but they're not recognising the government. I'd like to ask you, what prospects are there for all members of the G20 to recognise the government, to help deal with the humanitarian crisis and especially with the economic chaos underway now? I think there will be different stages. Now we have to answer the humanitarian crisis. That's the very first thing. If that requires, it will do, it will require contacts with the Talibans. So there's no alternative to having contacts with them. They are essential for this answer, for this response to be effective. But as you said, that doesn't imply a recognition. A recognition, we'll have to acknowledge that the Talibans will be judged for what their deeds are, not their words. The government, as we know, it's not really inclusive. It's not really representative. The women's right, so far, as far as we can see, we seem like going back 20 years, at least now. So recognition means, by at least by most of the G20 countries, means that progress has been made exactly along the words and the commitments that the Taliban government took a few days ago. Thank you. Gerardo Perosi, per il sole 24 ore, per favore. Buonasera, Presidente. L'immagine di desolazione e abbandono in cui versa Camparena in questi giorni, che praticamente era un pezzo d'Italia in Afghanistan per tanti anni, interrogano un po' le nostre coscienze su quello che è stato fatto in tanti anni, su quello che si poteva fare di più e meglio e soprattutto adesso quello che si potrà fare in futuro per quel Paese, su due fronti che lei ha già citato, cioè il fronte umanitario e l'emergenza finanziaria. L'aiuto della comunità internazionale occidentale per quanto riguarda il bilancio dell'Afghanistan, circa 8 miliardi di dollari, è stato fondamentale. Adesso ovviamente ci sarà un problema per quanto riguarda il bilancio e ovviamente i conti pubblici di quel Paese. Nella G20 avete immaginato una roadmap dei passaggi per quanto riguarda gli aiuti e qual è il ruolo che l'Italia può avere nel G20 ma anche in Europa per favorire questo processo? Il mandato dato alle Nazioni Unite serve proprio a questo, a riuscire ad avere una roadmap per procedere rapidamente con gli aiuti. Le Nazioni Unite già lo stanno facendo. Una prima cosa da chiedere al governo talebano è che vi sia la possibilità, non solo per le Nazioni Unite ma anche per le Nazioni Unite e altri Paesi che portano questa assistenza di poter entrare e uscire. Quindi libertà di movimento in sostanza. Quindi non è semplice questo ma io credo che di fronte all'importanza di questa crisi questo possa essere fatto. Quindi dal punto di vista economico gli stanziamenti sono significativi. L'Europa soprattutto ha fatto, la Commissione Europea ha fatto questo importantissimo impegno di un miliardo che è stato annunciato proprio durante il meeting del G20. Anche noi abbiamo fatto uno stanziamento che ad oggi credo sia uno dei più alti in Europa. Gli Stati Uniti, come dicevo, hanno... Quindi l'intenzione di aumentare i mezzi a disposizione è molto anche, c'è. Poi ci saranno gli interventi della Banca Mondiale e del Fondo Monetario. La cosa va un po' più in là però, ecco, della risposta umanitaria perché per essere sicuri che questa funzioni e che occorre che l'economia non collassi completamente. Perché questo avvenga occorre mettere altre risorse per mantenere in vita il sistema dei pagamenti e il sistema bancario, sistema, insomma, qualche banca. Per l'Agence France Presse, Alvise Armellini. Buonasera. Volevo chiederle se l'assenza di Putin oggi è in qualche modo legata al mancato invito a Iran e Pakistan la cui presenza era stata richiesta dal Ministro Lavrov quando è venuta a Roma l'ultima volta. E poi comunque se è valsa la pena organizzare questa riunione oggi in assenza di presenza di peso di Cina e Russia. Grazie. No, beh, come dicevo prima, è valsa sicuramente la pena perché è la prima risposta multilaterale alla crisi dell'Afghanistan. Quindi è molto importante. Si è avuta appunto la conferma, anche più di una conferma, in sostanza che le Nazioni Unite saranno il grande regista di questa risposta. e per quanto riguarda l'assenza di Putin, no, non c'è nessuna, almeno che sappia io, non c'è nessuna connessione con il fatto che non si potessero invitare altri due paesi. No, l'Iran non credo che fosse stato chiesto, non me lo ricordo comunque. Ma in ogni caso non credo ci sia nessuna connessione. Noi ci siamo sentiti qualche tempo fa, anche settimana fa, la conversazione è stata proficua, lunga, molto cordiale. Quindi no. E la stessa cosa col Presidente Schia. E naturalmente c'erano tutti gli altri. Quindi è stata un'occasione molto importante, anche per stemperare certi... Perché partiamo da una situazione in cui alcuni hanno detto guardate che vostra responsabilità quello che è successo. E però di fronte invece di stare a replicare, discutere, perché questa è stata la discussione che c'è stata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, qui ormai c'è la consapevolezza di questa emergenza e delle responsabilità enormi che il G20 ha nei confronti del popolo afgano, nei confronti del Paese, dove siamo rimasti per vent'anni. Quindi non c'è alcuna incertezza sul fatto che noi siamo anche responsabili di questo e che è nostro dovere intervenire. Roberto Chinzari per il Tg1. Torno sul discorso Russia e Cina, perché in un momento storico, tra l'altro in cui gli Stati Uniti sono tornati a scegliere il multilateralismo, quale strategia per mantenere e rafforzare anche questo percorso positivo che si è avviato anche oggi con Cina e Russia in vista del prossimo appuntamento di fine ottobre del G20? Quindi quando ci saranno da affrontare temi come la lotta al cambiamento climatico, la riforma del commercio, la stessa lotta alla pandemia. Quale strategia per avere una maggiore inclusione e una maggiore efficacia poi in affrontare questi dossier? Grazie. È assolutamente essenziale che sia la Russia sia la Cina partecipino al G20, non solo partecipazione, ma proprio con una risposta di politica economica, ambientale, e molti provvedimenti sono stati già presi sia dalla Cina che dalla Russia, altri forse verranno presi. L'attività del nostro Ministero degli Esteri, dei diplomatici, che hanno anche poi preparato questo G20 così bene, è continua per la preparazione del G20 di fine mese. Tutti sono consapevoli che gli impegni circa il clima, soprattutto, non sono realistici senza una partecipazione della Cina e anche della Russia, ma anche dell'India. Quindi sono... Ormai è un'altra cosa che non era per niente scontata fino a poco tempo fa, è che tutti sono consapevoli che questi problemi travalicano i confini nazionali. e quindi possono essere affrontati e forse anche risolti soltanto in un consesso multilaterale. Questo io penso che sia il più grosso cambiamento rispetto a un anno fa. Non c'è più incertezza. Come non c'è incertezza sul fatto, sulla necessità di avere obiettivi ambiziosi per quanto riguarda il clima e l'ambiente, dove l'incertezza avviene è nella velocità con cui perseguire questi obiettivi, perché le situazioni di partenza sono diverse e quindi è su quello che oggi avviene il confronto. Ecco, grazie. Ora c'è una domanda dalla rappresentante della TV turca, Esma Khashir. Buonasera Presidente, il Presidente turco Erdogan oggi ha ribadito un'altra volta che Turchia non possa più accogliere i rifugiati afghani e poi ha fatto una proposta di formare un gruppo di lavoro su migrazione sotto il G20. Come viene accolta questa proposta da vostra parte? Grazie. Ma io ho detto subito, quando ho fatto quella proposta, che la trovavo una proposta interessante. Però bisogna che anche gli altri membri siano d'accordo. Quindi ne parleremo nei prossimi giorni con gli altri membri. Noi, come sa, anche da quello che facciamo all'interno dell'Unione Europea, siamo favorevoli al coordinamento di una risposta per ciò che riguarda la migrazione internazionale. A cominciare da quello che sta avvenendo da noi, dove noi siamo stati, come si è sempre detto, lasciati molto soli in tutto ciò. Quindi questa è un'iniziativa che va in quella direzione. Però bisogna vedere appunto se gli altri Paesi membri sono disponibili a parteciparvi. Grazie. C'è una domanda da Simone Cantarini per Agenzia Nova. Buonasera Presidente. La mia domanda riguardava invece le modalità, se poteva approfondire meglio, le modalità di erogazione di aiuti finanziari a sostegno del sistema economico afgano. E se in questi termini sono stati avviati anche delle interlocuzioni con partner come Russia e Paesi vicini come Uzbekistan e Tajikistan per consentire, diciamo, questo afflusso complesso in questa circostanza. Grazie. Sì, il coinvolgimento dei Paesi vicini è essenziale. Questo è un punto che è stato sollevato subito, soprattutto dalla Russia, dalla Federazione russa, ma è un po', come dire, accettato da tutti. Quindi bisogna che i Paesi che sono, diciamo, che la Regione, i Paesi che sono di contorno all'Afghanistan siano coinvolti in questa risposta. Questo avviene in tanti modi, tra l'altro sta già avvenendo, perché le centinaia di migliaia, forse milioni di migranti, sono necessariamente andati a finire nei Paesi vicini per il momento. E quindi i Paesi vicini, probabilmente senza desiderarlo, si trovano coinvolti e si stessi a gestire che è una realtà completamente nuova e che non è finita, che queste migrazioni continueranno. È per questo che è così importante rispondere immediatamente a questa situazione. Una domanda da Ilario Lombardo, La Stampa. Buonasera Presidente, è inevitabile riportarla anche in Italia. No, non è inevitabile, è inevitabilissimo. Però diciamo che abbiamo l'occasione, abbiamo questa un'occasione per poterle parlare, quindi è un'occasione per poterle fare direttamente la domanda. Ci sono occasioni, va bene. Quindi diventa inevitabile nei fatti. Dica, dica. No, volevo sapere se alla fine, visto che il Governo avrà l'ultima parola e la decisione, se lei è orientato a sciogliere forza nuova. Guardi, la questione è all'attenzione nostra, prima di tutto, ma anche a quella dei magistrati, che stanno continuando le indagini e anche formalizzando le loro conclusioni. Quindi ora a questo punto noi stiamo riflettendo. Ancora due domande, Daniel Verdù e il Paese. Sì, buonasera Presidente. Buonasera. Io vorrei tornare sull'Afghanistan. Vorrei chiederle sul piano di evacuazione. Sappiamo già che è stato completato la prima fase. Sì. Il piano di evacuazione è stato completato la prima fase piuttosto di emergenza, ma sappiamo che ci sono ancora tanti collaboratori che rimangono lì e tanti richiedenti di asilo. Vorrei sapere come si farà questa seconda fase, diciamo, tra virgolette, e se c'è un numero, una lista di quanta gente potrebbe essere. Il Governo italiano ha assicurato l'uscita di 5.000 persone dall'Afghanistan, che è uno dei numeri più elevati all'interno dell'Unione Europea, ma anche la Germania ha fatto molto, il Regno Unito naturalmente. Quindi l'opera che è stata fatta è significativa, ma come lei dice non è sufficiente. Ci sono molti collaboratori. E un po' soprattutto di nuovo le Nazioni Unite stanno cercando di ottenere dal governo dei talebani, dal governo afghano, la possibilità che si organizzino dei corridoi, in altre parole, di lasciare un po' più libero le persone che vogliono andare via. E poi naturalmente assisterli. Non ci sono grandi novità su questo dopo la fine dell'evacuazione di emergenza. Di nuovo c'è però, almeno quello che osservo io durante questo meeting, durante questo incontro del G20, c'è disponibilità. Questa consapevolezza è diffusa, che ci sia ancora gente lì che vuole uscire, vuole essere aiutata e che è nostra responsabilità prendercene cura. Molti di loro sono anche andati nei paesi vicini, dove poi bisognerà anche rintracciarli, perché alcuni di loro probabilmente non possono stare in questi paesi. insomma, il governo americano ha anche dislocato vari gruppi di, come dire, di afghani che hanno collaborato con le forze armate in altri paesi intorno, nella regione. Insomma, è una realtà complicata, in gran movimento, ma di nuovo l'impressione che si voglia affrontare, non che si voglia evadere. Grazie, Presidente. Concludiamo con una domanda dalla BBC, Mark Alexander Lowin. Buonasera, Presidente. Anch'io vorrei farle una domanda in inglese, se non le dispiace. You said that there was no choice but to speak to the Taliban. There was no choice? But to speak to the Taliban and to engage with the Taliban at this stage. Do all G20 leaders agree on that? And what are your red lines or conditions for recognising the Taliban government? And what measures are being put in place to ensure that Afghanistan does not become a haven for international terrorism, as you suggested? Well, the answer to your first question is that it's very hard to see how one can help the Afghan people, which is a big number, and Afghanistan is a big country without some sort of involvement of the Taliban government, of de facto government, let's call it this way. Very difficult to begin with to bring the necessary aid. I mean, if they don't want us to enter, we don't enter. So, this is the degree of involvement, which, as I said, doesn't imply at all recognition. Recognition is a political decision that would be taken only when we are, we, the international community, agrees that progress has been made on various issues, the respect of human rights, of women, girls, education, essential individual freedoms, and so on. And right now, there isn't any progress that we can see. We see that the government, it was said that the government would be inclusive. It was not inclusive. It was said that the government would be representing various ethnical minorities and gender-wise. It was not. It was not inclusive. It was not representative. So, I think it's early for any form of recognition. So, we have to wait for that. Now, the concrete measures to fight international terrorism, at this point in time, what I can say is that certainly different forces in different countries cooperate between them. Cooperation is the primary response to fight international terrorism, exchange of information, cooperation. It's been a very effective response in the past few years. And now, of course, it has to be strengthened around this. Also, I don't have visibility, maybe others do, I don't have visibility about the exact nature of the relationship between the Taliban government and the ISIS. One has the sense that it's not exactly, I would say, a relationship or friendship. That's what, we had episodes of various, I mean, we have the bombing of the mosque, and we have, that is certainly something that the Taliban government didn't want to have. We had the other incident between the Taliban forces and the ISIS, and many other considerations would suggest that we should know more about that. And that is a very important consideration, of course. Grazie, concludiamo questa conferenza stampa. Grazie a quanti hanno partecipato e quanti hanno collaborato a organizzarla. Grazie tanto. Arrivederci.